Precipitata dalla zona gialla, quella rossa di rischio covid in meno di 10 giorni, la Toscana affronta la prima settimana con le restrizioni più severe, con meno traffico sulle strade, meno gente in giro e la speranza che la curva del contagio confermi il rallentamento degli ultimi giorni. Il nuovo bollettino quotidiano della regione però non è particolarmente incoraggiante. 2433 nuovi casi positivi, 53 persone in più in ospedale, 10 in più in terapia intensiva e 36 nuove vittime, 19 uomini e 17 donne con un'età media di 83 anni. Ma il dato che salta agli occhi è la percentuale di positivi riscontrati fra i nuovi casi sospetti sottoposti al test è il 37,4%, la percentuale più alta rilevata in questa fase autunnale della pandemia. In totale in Toscana ci sono attualmente 53.000 persone contagiate, di cui 2.061 in ospedale e 51.790 in isolamento domiciliare o in albergo sanitario perché hanno sintomi lievi o sono asintomatici. E aumentano ancora le persone in quarantena precauzionale perché hanno avuto un contatto stretto con una persona positiva al covid, 1.200 più di ieri, per un totale di 44.300. La Toscana è diventata zona rossa e anche per quanto riguarda la scuola e la didattica ci sono stati cambiamenti secondo le direttive del governo per cercare di arginare il contagio da coronavirus. E da questa settimana sono 68.000 gli studenti di seconda e terza media che con lo scattare della zona rossa seguono le lezioni da casa con la didattica a distanza come già fanno quelli delle superiori da due settimane. Solo i bambini dell'infanzia, delle elementari e gli studenti di prima media continuano ad andare a scuola. E in protesta contro la didattica a distanza per chiedere di tornare in classe il prima possibile, a Firenze è stata organizzata dal comitato Priorità alla Scuola una lezione di fisica all'aperto davanti al liceo scientifico Castelnuovo dove hanno partecipato cinque studenti. Quello che a me preoccupa molto è la difficoltà che ho visto sugli studenti, una grande difficoltà, un'enorme difficoltà che anche quando abbiamo ripreso a settembre, che per un pochissimo tempo siamo stati in presenza. Ecco, devo dire che riniziare a riabituare gli studenti al lavoro, all'attenzione dopo la pausa estiva e dopo i tre mesi assolutamente, come posso dire, vissuti come noi abbiamo vissuto da marzo è stato molto faticoso. Ai giornalisti che chiedevano alla professoressa cosa le mancasse di più della didattica in presenza, lei ha risposto così. La presenza, il contatto visivo, vederli negli occhi, diciamo rapportarmi in modo diretto con loro, questo è molto importante per il nostro lavoro. Secondo le direttive del governo resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per garantire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali. Il pronto soccorso dell'ospedale Meyer si sdoppia con l'allestimento di due container per affrontare la stagione invernale e gestire al meglio la separazione dei pazienti con sintomi sospetti da covid e potenzia anche i tamponi. Queste le misure adottate dall'ospedale pediatrico fiorentino per affrontare la seconda ondata di coronavirus in modo da garantire la massima sicurezza per tutti i piccoli pazienti. Tra le strategie messe in atto per difendere l'ospedale l'aumento della capacità di effettuare i tamponi anche negli orari notturni. A visitare la nuova struttura il presidente della regione toscana Eugenio Gianni, l'assessore alla salute Simone Bezzini e il rettore dell'università di Firenze Luigi Dei. Devo dire che una volta di più l'azienda Meyer ci meraviglia perché con l'amministratore delegato Zanobini arrivare qua a vedere il nuovo pronto soccorso, capire che dietro questo c'è il lavoro, la sensibilità e l'esperienza di uomini e donne che hanno avuto la capacità di dare ai nostri bambini le condizioni sempre migliori per poter vivere quello che è un problema di salute che li ha portati qua, è un elemento di soddisfazione. Una nuova struttura quindi e una nuova organizzazione degli spazi capace di accogliere i bambini anche nell'emergenza covid. La costruzione, l'organizzazione nuova del pronto soccorso insomma che dà il senso di un'organizzazione sanitaria che si pone l'obiettivo di organizzare la convivenza con livelli importanti di coronavirus, cosa che ci accompagnerà sicuramente per diversi mesi e in virtù di questo si costruiscono modelli organizzativi in grado di produrre una maggiore sicurezza diciamo per i pazienti, per le loro famiglie. Tra le ultime sperimentazioni del Meyer anche Uffa, un kit con un tampone nasale fai da te messo a punto dal laboratorio di immunologia, semplice da effettuare senza il bisogno di personale sanitario e pensato per i più piccoli. Lavoro in pieno corso nell'ex Creaf di Prato, edificio di proprietà della regione destinato a diventare in tempi record il nuovo centro covid Pegaso della Toscana, una struttura di eccellenza e di riferimento per questa patologia di livello nazionale. Nelle immagini vedete il sopralluogo effettuato dal presidente della regione Eugenio Gianni insieme all'assessora regionale alla protezione civile Monia Monni. Il primo contingente di 190 pazienti potrà essere accolto a partire dall'8 di dicembre. Io ne ho parlato con il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Bruce Aferro, ne ho parlato con il commissario Arcuri, sicuramente qualcuno di loro sarà qua, inviteremo anche il ministro Speranza perché questo diventa il primo centro italiano dedicato alla cura, all'analisi, probabilmente alla raccolta in una banca del sangue e del plasma di ciò che è la specificità covid. I 500 posti previsti inizialmente nella struttura sono stati ridotti a 340 per far spazio a locali tecnici destinati alla ricerca e riservati al personale. Abbiamo seguito i consigli dei medici, abbiamo fatto una struttura che però potrà recuperare posti fino ad arrivare a 350 al bisogno, abbiamo quindi distanziato di più i letti, creato più spazi tecnici che siano usili alla gestione dell'ospedale, che quindi rendano più semplice il lavoro ai medici, agli infermieri, al personale sanitario in generale e abbiamo ricavato uno spazio anche per 10 terapie subintensive perché come sapete questa è una struttura covid che arriva fino all'ossigeno, come dico per semplificare e per farmi capire e quindi è importante avere anche una prima risposta in caso di aggravamento e la necessità quindi di trasferirsi all'ospedale. Il brusco passaggio della Toscana da zona gialla a zona rossa del rischio covid con le restrizioni conseguenti ha fatto scendere l'indice di trasmissibilità RT da 1,8 a 1,3 ma i dati attuali non consentono comunque di risalire in zona arancione e la situazione resta critica in tutta Italia. Il nuovo monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità parla chiaro, l'indice RT nazionale è sceso da 1,43 a 1,18 ma quasi tutte le regioni sono ancora classificate ad alto rischio di epidemia fuori controllo perché i casi di covid sono ancora in aumento in forme gravi con un significativo impatto sui servizi assistenziali. La svolta ci sarà soltanto quando tutte le regioni scenderanno al di sotto del valore 1, un contagiato che infetta solo un'altra persona e al momento sono soltanto 4, Sardegna, Lazio, Liguria e Molise e ci vorrà ancora un bel po' di tempo visto che altre 17 regioni e fra queste c'è la Toscana sono ancora al di sopra delle soglie di sicurezza per l'occupazione dei posti letto in ospedale, terapie intensive in primis. Il presidente della regione toscana Eugenio Gianni commentando l'andamento degli ultimi giorni ha sottolineato che alcuni dati sono in miglioramento ma occorre insistere con le misure di sicurezza per tornare in zona arancione a dicembre e se la percentuale dei nuovi positivi sul totale dei tamponi sta effettivamente diminuendo ogni giorno, resta il dato drammatico dei morti, 242 soltanto negli ultimi 5 giorni.